guardate vecchi cami inglesi che signora raffrinata che vi presento oggi mercedes 280 c è un pezzo direi da collezione con una raffinatezza cromature ovunque stemmi prepotenti guardate che bella guardate che roba ma cosa vogliamo dire le tettucce apribile c'è all'epoca manco alla nasa ce l'avevano tettucce apribile e gli interni cioè gli interni sono spaziali cromature pelle veri inserti in legno ovviamente cambio automatico clima bizona c'è c'è la qualunque dentro questa signorina qua e la vuoi trattare come un'auto da tutti i giorni no una macchina del genere ci devi fare le carezze senti che scatto è davvero uomo da maschio ci devi fare le carezze guarda che bella tac il nostro bel copertura per il il tappetino la manetta andiamo aprire la manetta andiamo aprire il cofano andiamo a vedere cosa c'è sotto la pancia di questa signora guardate che roba ma che guava questo stemma qua adesso ce lo sogniamo e guarda che roba ma un motore 28 di cilindrata doppio albera cam in testa iniezione elettronica un sistema di acceleratore che è una libini nella vedere guardate quante leve le vettine guardate roba per aprire l'acceleratore ok questo apre questo qua è poesia sta macchina è poesia ma sentiamo come si mette in moto questa signora sentiamo un po non dico tanto è vecchia chiama inglesi basta un giro di chiave senti che roba senti questo suono e questo odore di benzina che pervade l'abitacolo un sogno guarda che finiture cambio automatico rigorosamente clima bizona non c'è da dire altro finiture in legno di pregio un motore che è un'astronave senti come gira senti come c'era un minimo perfetto iniezione geitronica un missile un missile per l'epoca una roba lei lei che sta guardando studio se lo sogna un motore così una roba del genere già su veicoli di oggi ma allora perché abbiamo portato questa bambina in officina che ha bisogno di qualche cura perché anche lei ogni tanto qualcosa bisogna farci no ve lo mostro subito allora questo è l'acceleratore che è un cratere non è l'acceleratore vediamo se accelera andiamo tende a morire un po si tiene questo basso ecco la macchina se acceleriamo tutto tendemolo in un po è come se gli mancasse benzina e noi ragazzi vecchi e cavi inglesi dovevamo capire perché lei si comporta così ma un dato interessante e divertente soprattutto perché è interessato ad acquistare la bambina qui bisogna sapere che ovviamente le bambine raffinate hanno palati esigenti e abbiamo un dato di consumo in ciclo urbano di 18,3 litri ora ed essere urbano neanche così tanto direi 9,3 litri 100 chilometri vi sfido io a farli ma andiamo avanti col video a vedere perché gli manca la broda quando bigliamo e pigiamo il piede dell'acceleratore su full gas ma allora vecchi e cavi inglesi direi di iniziare a lavorare apriamo il secondo scatto del cofano mercedes appena sotto che noi non sono delle belle corna perché sì se non lo alziamo picchiamo delle cornate sopra quel cofano lì e fidatevi che non è il massimo fa male quindi apriamo con questa apertura a modi aeroplano e iniziamo a smontare la nostra bella iniezione getroidi vi racconto intanto cosa abbiamo fatto prima e cioè abbiamo pulito tutto il serbatoio che era pieno zeppo di ruggine veramente una roba oscena abbiamo fatto il rivestimento l'abbiamo pulito rimontato tutto cambiato filtro e la macchina è migliorata tantissimo però non è ancora perfetta abbiamo ancora dei buchi quando diamo a full gas perché adesso voglio vedere cosa c'è qui dentro perché mi aspetto di trovare sporco e ruggine nel sistema di inizioni e andremo a smontarlo insieme ci mettiamo i nostri bei guantini da sarto non per le mie mani e io lo faccio per la macchina perché questa macchina qua la voglio trattare con i guanti come si dice iniziamo a smontare tutte le tuba io non so che misura mi hanno preso i ragazzi di guanti che mi pensavano un ragazzino di 12 anni cenerentola mi sa che sono xs quelle robe qua va bene iniziamo a smontare queste tubazioni qua con una bella anzi è una 12 andiamo a prenderci la 12 12 presa e iniziamo con lo smontare tutti i tubicini questi qua sono i tubi che vanno a a tutti gli iniettori quindi abbiamo primo secondo terzo quarto quinto iniettore e ovviamente lo so cosa mi state chiedendo dice ma scusami e paolo i tubi sono 123456 ma cazzo servono cinque cilindri cazzo servono sei tubi beh perché uno è per il quinto iniettore che serve a far ingrassare la miscela a freddo anche questi li abbiamo già smontati e puliti è uscito il mondo però la macchina migliora sempre ma non è perfetta quindi adesso voglio andare anche smontare sto accrocchio di jtronic qua e andare a vedere cos'è che abbiamo sotto togliamo tutti i tubicini ora vediamo se riusciamo a metterli un po da parte ma non voglio pregarli troppo perché sanno poi metterli diventa un delirio li abbiamo già segnati col numero quindi non c'è pericolo di andare a confondersi in un futuro ovviamente anche qua devo dire che se si vede che stavano iniziando a diventare moderni si ingegneri mi ha messo una vite proprio dietro questo tubicino qua quindi dobbiamo andare a smontare questo che è un po scomodo stavano iniziando a drogarsi ma ancora facevano le cose abbastanza comode poi dopo gli anni 2000 sti ingegneri purtroppo c'è stato il declino totale e ci hanno fatto c'è stata una guerra tra meccanici ed ingegneri e hanno iniziato a mettere i bastoni tra le ruote tra chi ci deve lavorare e chi le fa le macchine ma questa è un'altra storia un po duretto come filetto ma non ha nulla è solo un po duro gli altri sono venuti molto facilmente una volta che abbiamo smontato questo tubicino qua sotto andiamo a togliere una vite adesso poi ve la faccio vedere ok via fuori anche questo la vite di cui parlavo vedete allora devo togliere queste tre viti e l'altra l'ha messa qui sotto qui già sorbivano l'influenza della modernità vabbè andiamo a togliere questo così riusciamo a rimuovere il coperchio della nostra jetronic piccola guarnizione rame per far tenuta con la benzina e adesso finalmente possiamo andare a rimuovere il coperchio della nostra jetronic vediamo se riusciamo con un cacciavite dubito perché subiti belle grosse si è mossa no niente ci vuole un cricchettino col suo inserto datemi una chiave che vi sposterò al mondo è in vero signori allora non vengono giù mannaggia iniziamo a picchiare un po in testa almeno gli aiutiamo un attimo un po qui non si riesce proviamo a tirar giù le due che abbiamo picchiato prima questa che un pochino più si mangiano signori abbiamo un piccolo grande problema allora gli ho picchiati un po per aiutarci primo per fortuna sta venendo vediamo l'altro se mi vuol fare un favore ok bravoissimo bravissimo meno male mi era già salito il terrore stavo già sudando vediamo l'ultimo perfetto via vengono via tutte gli diamo dei colpettini per cercare di un po eccolo qua si è smollato dobbiamo smollare anche questo che mi ero dimenticato e vediamo di tirar via la nostra il nostro coperchio della jetronic sono curioso di vedere non sapete quanto cosa c'è sotto abbiamo un po allora ma c'è un altro ma quanti tubi a quella roba qua impressionante e piena di tubi di iniettori roba ok perfetto vediamo un po si tiriamo via piano 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 allora già io vedo pieno di ruggine qua guardate che roba è tutto ruggine parte che sto pisciando benzina dappertutto fatemi fare una cosa bella chiama qua un attimo andiamo a prendere un bel pezzo di carta e la mettiamo sul banco vediamo insieme come funziona l'acceleratore allora ogni volta che noi spingiamo sull'acceleratore andiamo a premere lo stantuffino che abbiamo visto sul coperchio andiamo adesso sul banco vederlo allora eccolo qua il nostro coperchio vedete questo qui è l'acceleratore ogni volta che premevamo sotto lui scorreva avanti indietro adesso io lo premo poi devo scrollare per farlo scendere premo quindi ogni volta che noi acceleriamo questo va verso l'alto andiamo a scomporlo diciamo che aprirlo non è stata la cosa più semplice vecchie cavinesi ma finalmente abbiamo il nostro sistema di iniezione getterone che smontate vediamo un po come funziona allora ve lo faccio vedere la pressione della benzina quando raggiunge un determinato valore fa premere questi tantuffe con queste molle e fa aprire il passaggio agli iniettori abbiamo poi tutti questi passaggi che adesso noi andremo a pulire per benino andremo anche a vedere le guarnizioni se sono a posto insomma andiamo a revisionarlo e poi vediamo come va la macchina comunque un oggetto davvero davvero interessante molto figo c'è l'acceleratore che avevamo prima che non è altro che questa gamma che scorre avanti indietro vediamo un po' eccola qui qui è tutta sporca ma noi la punta non ci interessa perché era quella che era a contatto con l'acceleratore esterna non interessa pulire tutta la parte dove passa la benzina adesso la metteremo una ventina di minuti nella vasca oltre a sony e poi andiamo a fare il lavoro vecchie cami inglesi abbiamo pulito tutto il nostro sistema getronica quando si fanno questi lavori bisogna essere certosini deve essere tutto pulito al millesimo pulito ogni passaggio dell'olio cambiato le guarnizioni e adesso non ci rimane che rimontarlo e andarlo a provarlo sulla nostra bella signora e vecchie cami inglesi come sempre non è che non ci sia da soffrire voglio vedermi o rimettere il coperchio con le guarnizioni qua perché lui andrà così sopra ovviamente ecco mi è caduta una ranella ovviamente alla sua posizione voglio vedere vabbè soffrirò ma ce la farò vuoi che non ce la facevo beccati qua beccati le guarnizioni infilate filate sono male comunque incastrate nel modo giusto guardare un po' la donna che calamita che hanno ste lampadine guardare un po' lì sotto ok altro che chirurgo vabbè andiamo avanti non ci resta che andare a inserire i vari tubetti e tubettini questi genere di tubi essendo conici è sempre meglio avvitarli a mano prima nonostante a chiunque venga lavorare all'inizio glielo si dice poi alla fine finisce che non lo fanno e te li spannano quindi mi raccomando prima di creare danni bisogna assolutamente fare avere questo questa accortezza insomma e signori signori vecchie cami inglesi e non distributore carburante montato non ci resta che provare a fare accensione e vedere se abbiamo ancora quei voti di potenza non vedo l'ora di trovarlo e di capire se abbiamo fatto tutto giusto spie quadro acceso probabilmente deve caricare la pompa no bueno sto già sudando signori sto già sudando iniziano a volare non dico cosa dovrebbe già partire mi sa che abbiamo un problema mi sa che devo soffrire devo dismontare tutto c'è una cosa fila liscia di no non parte solito tentativo era un falso allarme fa salame ducazzo mosso razzi cioè lei che sta guardando fra il suo video forse non lo percepisce ma io sto sudando vecchie cami inglesi sto sudando perché la pastarda non parte devo rifarmi tutto il lavoro e non so quando lo farò perché sono quasi le otto cioè e devo tornare a casa sarò la nonna mi uccide toccherà farlo di no non ho idea comunque lo farò e la sistemerò ah perché certo non gliela do mica vinta non gliela do vinta e lo sapete chi ha vinto tra me e la bastarda lì dietro ma ovviamente io e non poteva essere altrimenti perché giuro piuttosto cambio tutta la macchina pur di sistemarla e che cazzo comunque vecchie cami inglesi ora lei funziona benissimo full gas tira che è una bomba certo bisogna farla scaldare un po perché ovviamente bisogna avere pochino il piedino vellutato con la signora se non si offende ma per il resto veramente mano scoppiettata per farvi vedere la cosa vi farò vedere uno short che ho girato visto che ho dovuto fare le cose in vari giorni e ho altri lavori da fare adesso ancora smontata godetevelo perché vedete una macchina che è una bomba vi lascio la short e noi vecchie cami inglesi ci vediamo alla prossima ciao è enorme non ci sta neanche nella camera alziamo il cofano un po di più va che cos'è sto roba va che cos'è un diamante va ammirato con la luce giusta guardano va l'acceleratore va l'acceleratore guarda quanti meccanismi e senti come cani puoi finire lì dentro puoi finirci dentro intero guardano va l'acceleratore